Non mi stancherò di dire che questa piaga della pedfilia, scusate ma non posso usare la parola completa, è un problema trasversale che riguarda tutte le culture, tutte le realtà anche religiose, ma a prescindere dall'appartenenza religiosa. Quindi non riguarda solo i testi religiose, non riguarda solo i cattolici, non riguarda gli anglicani, non riguarda solo gli evangelici, non riguarda solo nessuno, riguarda purtroppo tutti perché la maggior parte degli abusi avviene semplicemente nelle famiglie. Oppure come in questo caso, vediamo che c'è come è anche appunto successo con ministri di culto cattolici e altri, anche in questo caso la modalità è quella di far nascere un rapporto di amicizia, in questo caso questo 31enne testimone di Geova, appunto partendo dal rapporto di amicizia, instaurando una fiducia nei suoi confronti da parte della famiglia, è chiaro che poi partendo da quello poi si da sfogo, purtroppo quella che è una perversione. Questi reati si possono prevenire, sì, facendo molta vigilanza e soprattutto ovviamente mettendo in atto dei meccanismi di controllo della comunità e però in questo caso quello che dispiace è che la Torre di Guardia ha sempre fatto invece un punto di forza dicendo queste cose da noi non accadono, la nostra congregazione è pura, ultimamente dice sì accadono ma mandiamo sempre via, beh insomma vediamo come anche possono essere integrati delle linee guida scaricabili da jv.org, si legge proprio come dopo un tot di anni, la persona pedfilà può essere tranquillamente reintegrata dando gli incarichi minori, magari non incarichi di un certo tipo, ma il punto qual è? Il punto è che si tratta di parafilie, si tratta di malattie che vanno al di là della volontà della persona e purtroppo tendono a queste persone la reiterazione del reato, quindi non è sufficiente dire con una pacca sulla spalla, vabbè abbiamo capito fratello che non lo farei più e questo ripeto vale per qualsiasi persona coinvolta in un incarico come può essere questo appunto di accompagnamento di minori in varie situazioni. In questo caso riguarda un testimone di Geova ma sono notizie che certamente non fanno piacere a nessuno, tantomeno ovviamente ai testimoni di Geova però si tratta di non, ripeto, tirarsene fuori dicendo tra di noi queste cose non accadono perché sono sempre accadute ovunque e semplicemente come si interviene ecco, si interviene assicurando queste persone a un percorso di cura clinico, ecco non certamente con una pacca sulla spalla. Grazie.